Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini, traffico al momento regolare su strade e autostrade della nostra regione. Sulla variante di Valico tra Firenzuola e Badia un veicolo fermo in direzione Bologna, sulla Firenze Pisa Livorno, anche qui un veicolo in difficoltà tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione di Firenze. Ricordo in A11, per attività di ispezione delle barriere di sicurezza, stanotte sarà chiusa l'entrata di Pistoia in direzione Pisa e in alternativa si consiglia di entrare a Monte Catini Terme. Infine ricordo a Firenze, da settembre scatta la seconda fase del blocco dei veicoli diesel immatricolati fino al 2014. Il divieto interessa i viali di circonvallazione dalla fortezza Viale Giovane Italia e nella direzione opposta da Viale Amendola fino a Piazza della Libertà. Guidate con prudenza, è tutto per il momento, a più tardi.